Poco meno di 20 giorni alla chiusura delle iscrizioni per i campionati di eccellenza e promozione. Le società in linea di massima hanno avviato la programmazione al nuovo torneo. Da un lato l'atto dell'iscrizione che certamente riserverà delle sorprese come successo negli ultimi anni. Dall'altro l'aspetto tecnico con il calciomercato ormai entrato nel vivo. Partite le trattative ma come spesso succede per attendere fumate bianche bisognerà aspettare l'inizio di agosto. Di certo tutti sono alla ricerca di ragazzi fuori quota diventati sempre più una rarità. Considerati i budget ristretti e la carenza di ragazzi con voglia di sacrificarsi, ecco che organizzare il pacchetto Juniores non è di certo facile. Ricordiamo che dopo qualche notizia circolata su una possibile riduzione dei ragazzi da utilizzare in campo nel torneo d'eccellenza, il comitato molisano ha confermato la formula dei tre Juniores quest'anno due 98 e un 97, mentre in promozione solo un classe 97 e un classe 98, dunque tutto invariato. Per quanto riguarda la composizione dei due campionati, ecco che le novità sembrano davvero dietro l'angolo. Ricordiamo che lo scorso anno i due tornei regionali hanno visto la presenza di 17 squadre. Il comitato della FGC dovrà decidere se confermare il numero, alzarlo a 18 oppure tornare a 16. Molto dipenderà dalle società. Al momento nel campionato d'eccellenza l'unico forfei certo è quello del termoli calcio 1920. Con l'Isernia che si scriverà regolarmente in eccellenza non si segnalano altre situazioni di difficoltà. Quindi Alife, Vairano, Isernia, Riccia, Macchia, Pietra, Montecorvino, Gambatesa, Roccaravindola, Sesto Campano, Venafro, Treppini, Campobasso 1919, Bastogirardi e le neopromosse, Guglionesi, Campodipietra e Spinete. 16 dunque. Dalla promozione spinge la nuova società città di termoli innata dal calcio petacciato. Ovviamente la FGC dovrà tenere conto della domanda di ripescaggio del nuovo sodalizio giallorosso, anche se certamente la Frentania, che ricordiamo ha perso la finale playoff, ha più titoli maturati sul campo in caso di domanda di ripescaggio. Ecco perché lo stesso numero delle squadre ancora non è chiaro. Sicuramente le società auspicano la conferma delle 17 squadre e non l'eventuale passaggio a 18 per motivi logistici e di calendario. Nel campionato di promozione imbilico le posizioni del Montenero, per ora tutto tace, e della Santeliana, che però nelle ultime ore sembra aver trovato nuova linfa per continuare. In chiusura, in merito alla notizia detta da noi di un allontanamento di Nico Polzella dallo Spinete, lo stesso calciatore ci ha fatto sapere che è molto vicino alla prosecuzione del rapporto proprio con la squadra guidata da Matteo Varanese.